Roberto Mussapi Dopo queste poesie di Umberto Fiori, dove si percepisce in modo fortissimo le tensioni e le possibilità che continuamente ci si presentano. Ecco l'opera di Umberto Mussapi, poeta, scrittore, critico letterario, direttore editoriale di H-Book per un periodo oggi... Non direttore editoriale mai, direttore di una collana di poesia. Direttore di una collana, stavo per dire oggi direttore di una collana di poesia. Poeta e traduttore, che ha curato anche molte opere di autori francesi. Nella pagina di Wikipedia dedicata a Roberto Mussapi ho trovato autori classici contemporanei scelti sull'esclusivo criterio delle affinità elettive. Chi l'ha scritta questa pagina? Questa riga l'ho dettata io. Melville e Baudelaire e Properzio sono, io traduco gli autori che fanno parte di una costellazione, i miei maestri e quelli con cui, in realtà quelli che posso tradurre, perché se non fanno parte, se non c'è una affinità elettiva non li puoi tradurre. E tra l'altro il volume che raccoglie tutte le tue poesie, edito da Ponte delle Grazie, è accompagnato da un'introduzione di Yves Bonfoy, che è un altro maestro che sottolinea la capacità di ascolto di Roberto Mussapi. Io mi ricordo di aver incontrato l'opera di Mussapi anni fa leggendo una prosa poetica splendida che si intitola La Grotta Azzurra, che è il racconto di una donna delle polizie in un autogrill, di quelle che sono recluse in fondo alle scale e passano le loro giornate lì con questi attraversamenti disconosciuti in questo luogo funzionale e basta. Eppure questa donna riesce a trasformare attraverso la propria sensibilità, la propria capacità di visione, quel luogo in una grotta azzurra, perché sente degli echi. Allora vorrei chiederti che cosa significa per un poeta ascoltare? La poesia può dischiudere e far crescere la nostra capacità di ascolto della realtà? La poesia è quintessenzialmente ascolto, non ascoltando non può nascere lingua poetica e cioè lingua fondante rispetto alla realtà. L'ascolto è esemplificato nei romanzi di Stevenson, il ragazzo che ascolta sempre nel barile delle mele, piuttosto che nell'argine e così, ti fa comprendere il senso della realtà, fa comprendere quello che sta accadendo. E non c'è voce senza ascolto perché l'ascolto è l'immersione nel battito pneumatico del mondo. L'ascolto non è rivolto solo alle persone, è rivolto al cosmo, cioè si ascolta il respiro del mare come si ascoltano le voci delle persone in metropolitana. Senza ascolto non c'è una vera voce, c'è una voce tenorile, magari aggraffiata, intonata, che però non entra e non sarà mai ascoltata. Ci vuole leggere qualcosa? Sì, posso leggere in piedi? Sì, certo. Si può aumentare un po' il volume? Sì. Le voci che parlano a luna di notte alla segreteria telefonica, quella un po' alconica dell'amico che chiama da una festa, quella dall'accento tedesco che evoca boschi, quella di tanti che non conosci poi la madre in una città su un alto piano, mentre tu sei distante e percepisci la notte, e la commistione delle voci riudite di quelle che nel tempo diurno ti parlarono, al telefono o solo dentro di te i persi, i tuoi morti, o le voci viventi che ti svegliarono dal sonno delle basse pressioni, dal sottovivere. Chi ti chiamò dall'ombra sollevandoti nella luce e nel respiro, tutti i presenti evocanti nel ricordo di un tasto appena spento, non solo la loro voce, la voce impressa, le altre quelle che ti fecero diurno e perenne, mentre sciamano le automobili nel silenzio e i fari accesi custodiscono il buio, la radio, l'abitacolo, l'altra voce. Leggerò una poesia dal ciclo delle notti arabe. Io mi esprimo per cicli che si riprendono, vengono ripresi in vari libri. Notti arabe è la traduzione di Arabian Nights, che vuol dire mille e una notte, è uno dei libri fondanti della mia vita. Ho immaginato queste poesie come monologhi, ognuna di queste è un monologo. Ho immaginato lo storico, nonché mitico, sultano Harun Harashid, quando si spostava nel deserto. È un personaggio notoriamente storico, ma mitico presso i musulmani e presso i cristiani per la sua magnanimità, per la sua misericordia, per il suo amore e per la poesia. Harun Harashid, questa è la storia. Compare in molta novellistica anche toscana del 300. La mia immaginazione, infatuata un po' delle Arabian Nights, lo vede attraversare il deserto per muoversi come fa ogni sovrano, a risolvere vari problemi nel suo reame. Di notte sostano nelle oasi, palme, sanno scegliere quindi, palme, acqua, montano le tende in un istante, tappeti persiani, e questa è storia. Io amo molto la storia materiale. La mia invenzione è che ogni poesia è una risposta del poeta di corte che si portava accanto nei suoi viaggi Harun Harashid a una domanda. Questa parte del libro è costituita da risposte a domande. La prima è la prima della sezione e quella con cui concludo la lettura è una domanda fondamentale che il sultano illuminato di notte pone al poeta nel silenzio. Immaginiamo nel silenzio dell'oasi. Dal ciclo delle notti arabe la risposta del poeta a Harun Harashid Una notte in cui l'azzurro era più intenso tra lo stormire delle fronde Harun decise e guardando lontano oltre le dune gli chiese direttamente perché piangi Omar quando siamo in viaggio perché intoni le tue rime a un lamento di passero quando guardi la lune della luna e brillano le torce ed è ancora lontana la data del ritorno a Bassora dove lei ti attende io posso piangere perché lei lontana mi è assente e la sua immagine sfuma nel calore del deserto scivolando dalle mie dita come sabbia e con l'immagine si dilegua la sua anima viva solo nel desiderio e nella distanza ma tu che fai vivere la tua donna nel canto che in questo istante la evochi nella voce e nel volto oltre la finestra da cui guarda e ti aspetta oltre il succedersi delle notti nel deserto in una luce chiara e costante e tu puoi rendere presente adesso il suo respiro il suo volto molto più del mago con il genio della lampada perché tu evochi una persona vivente non annulli la realtà ma la distanza e amore non meraviglia genera il tuo miracolo come sbagli mio signore a non sospettare che sia lo stesso per te e per me la separazione intendo la separazione basta perché per il resto io sto peggio lei assente da te e muta non ti frequenta ma solo attende il tempo del tuo ritorno non è così per me perché io ho in me la sua forma e la parola e le forze suscitanti e la tecnica di quello che tu chiami il mio miracolo ma anche il segreto di tutto questo incluso nella sua voce materia prima la luce e la fonte così la mia arte è uno spasimo senza oggetto una preghiera disertata ad alla grazia forze intenzioni che attendono un cenno a te lontano da lei manca una donna a me se lei non c'è manca me stesso grazie 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 a tutti Grazie.